Si alza il sipario stasera sulla terza edizione di Balliamo con la vita. Il progetto dedicato alle pazienti oncologiche che stasera si esibiranno sul palco del Teatro Carlo Gesualdo tra tanti artisti, tra cui la bravissima Erika Occionero, perché attraverso la danza il corpo e l'anima tornano a brillare come stelle. Il passaggio è il premio finale di un nostro progetto, anzi è un progetto della dottoressa psiconcologa Annalisa Stanco insieme alla presidente dell'AMOS Maria Rosario Ingenito e il nostro grande maestro Mario Cesa. Ci hanno permesso per due ore a settimana di preparare questo saggio finale e quindi raccoglieremo il frutto di questa grande emozione che già ci accompagna da parecchi mesi. Che balli, che balli! Allora, noi faremo una baciata, faremo un cia-cia-cia e poi faremo un ballo afro che è l'adea della bellezza Occion, per cui cercheremo di essere più donne possibili perché ci sentiamo adesso finalmente donne, grazie a questa opportunità che ci hanno dato, come diceva la mia amica la dottoressa, la presidente Maria Rosaria e il grande maestro Cesa, che con tanto impegno hanno fatto sì che riuscissimo a muoverci. con grazia. Perché bisogna combattere le avversità della vita con la bellezza e la danza è bellezza. Assolutamente sì, perché poi all'interno di questo progetto appunto è una forma anche di fisioterapia, non solo fisica, ma anche per l'anima, perché noi abbiamo bisogno di rinascere, abbiamo bisogno di confrontarci e di essere propositivi verso la vita, sempre. Grazie.